Marcello Sane ci sta inquadrando nello splendido scenario di Lungarno Grazia delle led alle nostre spalle una delle entrate di Camera di Commercio di Firenze. Oggi è il momento della presentazione dei dati relativi al mercato del lavoro in ovviamente provincia di Firenze per quanto riguarda la Camera stessa. I dati parlano di quasi 33.000 nuove assunzioni tra maggio e luglio con una buona più 21% rispetto all'anno 2019 dunque il mercato del lavoro in espansione però ci sono tanti elementi che concorrono alla formazione di questo fondamentale elemento della nostra vita. L'ultima tendenza viene dagli Stati Uniti e si chiama Great Resignation in sostanza è l'uscita volontaria dal mondo del lavoro. In poche parole le persone danno le dimissioni dal proprio lavoro e ripensano la loro vita in maniera totale, in maniera sostanziale una tendenza che ovviamente è post pandemia e per questo motivo e non solo per questo motivo ad esempio abbiamo una difficoltà in provincia di Firenze di reperire camerieri, cuochi e figure high skill cioè figure altamente specializzate dunque su 100 persone che il mercato richiede 41 non vengono trovate anche a causa di questo nuovo fenomeno. Andiamo a sentire. Quello che noi oggi però solleviamo è una questione che sta verificandosi sempre più in maniera pesante che è l'uscita dalle imprese del lavoro quindi oltre a verificare il gap distanza domanda offerta che sapete che vedete che vedremo oggi dettagliatamente noi oggi stiamo verificando un altro fenomeno che ci sta facendo pensare che il mondo del lavoro sta cambiando profondamente nelle radici. Credo di poter dire in sintesi che nel giro dei prossimi anni troveremo una condizione diversa rispetto al lavoro cioè che non saranno più le aziende a cercare i lavoratori e individuarli sulla base delle famose selezioni dei bandi come venivano fatte ma saranno i lavoratori a cercarsi l'impresa perché troppo i fenomeni che si stanno ancora manifestando tutti da verificare ci stanno dicendo che il lavoratore cambia molto e individua l'impresa in base a dei fattori che non sono solo esclusivamente stabilità economia ma anche anche a come si rapporta al mondo del lavoro. Pensate solo negli Stati Uniti ora stiamo verificando che il 20% in più rispetto a pre pandemia i lavoratori stanno uscendo dalle imprese quindi stiamo parlando di numeri enormi di persone che hanno già lavoro stabile contrattualizzato e sta uscendo dalle imprese. Noi avevamo un dato che girava nei primi tre mesi dell'anno che girava intorno a delle percentuali intorno all'8% gli Stati Uniti sono su dei dati che arrivano intorno anche al 30% quindi attenzione è un fenomeno che arriverà anche su di noi e secondo noi è un fenomeno che nasce profondamente dall'insoddisfazione che il lockdown ha portato nella rilettura dei valori della vita. Non sappiamo è un fenomeno tanto grande non si può dire quindi Camera di Commercio oggi segnala attenzione a quello che succederà oltre al fatto è puntualmente metteremo a punto analisi strumenti per aiutare tutti quanti noi da oggi pomeriggio a capire dove va il lavoro e cosa c'è da fare per poter trovare il lavoro perché dall'altra parte abbiamo gente disoccupata che non riesce a trovare lavoro è paradossale. Sì la pandemia la crisi pandemica ci consegna un mondo del lavoro radicalmente cambiato devo dire che anche lo scenario generale in cui ora noi stiamo affrontando il tema è uno scenario molto molto incerto spirali inflattive l'impatto robusto della crisi russo-ucraina sui costi dell'energia sui costi delle bolette una revisione al ribasso anche delle proiezioni economiche l'anno corrente era stimata la crescita del PIL nel 4,6% è ridimensionata probabilmente ad una crescita che poco di poco supererà il 2% in questo scenario però la domanda di lavoro per certi lavori ancora sta tenendo in provincia di Firenze sono 32.800 le potenziali assunzioni del trimestre in corso maggio giugno luglio quindi un numero ancora importante sta in maniera esponenzale crescendo la difficoltà di reperimento questo è un fenomeno particolarissimo mediamente il 40 per cento quindi si cercano dieci figure professionali quattro non si trovano questo 40 per cento diventa addirittura il 70 per cento per le professioni green le professioni legate al digitale diventa il 50 per cento per gli operai specializzati quindi c'è un tema profondo di connessione fra mondo della formazione mondo del lavoro noi lo diciamo spessissimo serve una formazione post diploma che possa aiutare i ragazzi ad acquisire quella tecnicalità quella formazione specialistica che il mondo delle imprese richiede